...e anche il premio carrochiesa, a partiti! Allo specchato è Roccatella, all'esterno Charmin Buman, Elusive Force, Malika Iazzo Benivo, Media di Latte, Suar Belun, Rebecca Rolf, Madda Sports, James Lash, Spinniar, Cry of Liberty e Cagera. E in vantaggio lungo la corda Elusive Force, davanti a Rebecca Rolf, Cry of Liberty, Madda Sports, Spinniar, Malika Iazzo Benivo, Charmin Buman, Media di Latte, e in vantaggio lungo la corda Rebecca Rolf, davanti a Cry of Liberty, Madda Sports e Malika Iazzo Benivo, Sandus Lash a centropista, e in vantaggio passa Sandus Lash a centropista, davanti a Cry of Liberty, Madda Sports, Charmin Buman e Rebecca Rolf, e in vantaggio Sandus Lash, davanti a Charmin Buman, Madda Sports e Rebecca Rolf. Luigi Riccardi! La zampata, la zampata della tre anni, imbattuta signori, ta imbattuta! E le tre anni, voi per ieri anni! Che cavalla! Buona cavalla! Buonissima, buonissima, Piero! Alla terza corso in carriera, dopo aver debuttato a febbraio, vincere un gruppo, guarda, è difficilissimo! E alla quarta regina Elena, alla quarta regina Elena, perché lo fa, lo fa, lo farà, lo farà sicuramente anche se mamma zampciotte, terza, la vede lo shampoo di una narice! Ci deve provare a farlo! Se vuoi lasciarmi il guomane per il testo, forse è Rebecca, a Riccardo! No, Madda Sports, Madda Sports, terza! E quindi, resta!